Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pescara è il nuovo regolamento della Polizia Municipale, un regolamento, Assessore Teodoro, che vede però una parte cospicua dei vigili urbani di Pescara contrari. Guardi, io capisco, ho letto anche le motivazioni, ma noi ci siamo esattamente limitati a modificare il regolamento in base alle nuove attività legislative che nel corso di questi anni si sono susseguite e che hanno prodotto nuove leggi in materia di sicurezza urbana e in materia anche di regolamentazione del corpo stesso. Ci siamo limitati a far questo. Nel fare questo abbiamo valutato alcuni aspetti di ordine organizzativo che certamente non coincidono con le piene volontà da parte delle sigle sindacali, ma evidentemente coincide invece con la piena volontà dell'amministrazione comunale che pensa di aver interloquito ai tavoli ufficiali con i sindacati e non solo con i sindacati. Perché questa delibera, da me proposta, è stata trasferita come da procedura al vaglio e alla valutazione della commissione consigliare permanente, dove sono rappresentate tutte le espressioni del Consiglio Comunale. Pertanto si è fatto un lavoro lungo, complesso, di alcuni mesi, circa 30 sedute. Siamo tornati nuovamente in aula accettando un numero pari a una decina di emendamenti, di osservazioni che da questo lavoro è venuto fuori e oggi credo che il regolamento di Polizia Municipale sia tra i migliori d'Italia, così come approvato, non del centro Italia, tra i migliori in Italia. Non c'è il rischio di andare allo scontro con il corpo della Polizia Municipale? Non c'è alcun rischio perché, come la logica insegna, ci sono professionisti, espressioni che di questo mondo ne hanno fatto il loro lavoro, la loro vita. E mi riferisco all'esperienza del comandante, all'esperienza del corpo degli ufficiali, che hanno lavorato e che hanno suggerito quali sono gli elementi essenziali. Certo, i sindacati vorrebbero, come dire, ottenere di più, ma in una sorta di trattativa qualcosa si accoglie e qualcosa si respinge. E così è andata, come accade normalmente, democraticamente, in tutti i livelli istituzionali dove c'è un confronto tra la parte pubblica e il sindacato. Grazie.